È stata la più imponente esercitazione militare della Nato da sette anni nei paesi baltici. In Polonia circa 6.000 militari dell'alleanza e di paesi non membri hanno simulato un'invasione da parte di un paese fittizio, scatenata dalla lotta per le risorse energetiche e dalla crisi economica. Un'esercitazione alle porte della Russia non proprio apprezzata da Mosca.